Il giovedì d'allerta meteo arancione sulle Marche si accanisce sulla provincia anconetana fra lagamenti, strade trasformate in fiumi di fango e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Criticità anche nel Pesarese, a cominciare da Monbaroccio, dove l'Arzile è sondato nella notte rendendo off-limits per diverse ore l'area industriale. Territorio di Monbaroccio che è stato anche l'unico a chiudere le scuole preventivamente nella giornata di questo giovedì. Situazione che è andata invece peggiorando nel pomeriggio odierno a Fano, nella zona di Ponte Sasso, dove c'è stata l'esondazione del rio Crinaccio e del rio Marsiliano. Situazione che ha causato allagamenti sulla statale, compreso il sottopasso, coinvolgendo anche diverse abitazioni private. A Pesaro, problemi nella zona di Santa Veneranda, dove è crollata una quercia su due auto e su un cancellio di un'abitazione, e alberi caduti anche nella parte di Ponte Valle. Nel mattino si è allagato il sottopassaggio della stazione ferroviaria al pari di garage d'abitazione come quelli mostrati in questa segnalazione dalle quartiere di Vismara. Diversi gli smottamenti dalla zona di Santa Colomba al San Bartolo, dove è stata chiusa parte della strada provinciale e dove sono cadute piante al pari di Via Goito e Via Tolmezzo. Attese piogge anche per domani, in un venerdì 20 settembre, in cui l'allerta si ridimensiona da arancione a gialla.